E' stato eletto il nuovo segretario della Federazione Provinciale del Partito Democratico di Caltanissetta, si tratta di Renzo Bufalino, sindaco di Montedore e vice segretario regionale del PD Sicilia. Nei giorni scorsi infatti, durante l'assemblea svoltasi presso l'Istituto Testa Secca, presieduta da Massimo Arena e in presenza del vice segretario nazionale Peppe Provenzano, Renzo Bufalino è stato eletto per acclamazione. Non mi aspettavo questa nomina, però siccome c'è stato un momento di difficoltà che è indubbio negare nel PD anche nella nostra provincia, nel momento in cui gran parte dei dirigenti del partito hanno chiesto la mia disponibilità, ho ritenuto opportuno non tirarmi indietro e caricarmi di questa enorme responsabilità, perché comprendo bene che è necessario rimettere in moto e in piedi un partito che sta attraversando un momento particolarmente delicato, ma qui sono sicuro dovremmo uscirne a testa alta. Alcuni circoli hanno anche proceduto all'elezione delle segrete di circolo, in caso di Caltanissetta Giancarlo Larocca è stato riconfermato segretario di circolo, alcuni circoli hanno rinnovato i propri segretari, ma la maggior parte ha lasciato la dirigenza in carica. Si pensa anche alle prossime elezioni amministrative. Nel 2024 si voterà in due luoghi più importanti della nostra provincia, Caltanissetta e Gela. Io penso che il Partito Democratico debba esserci, debba esserci con una propria offerta politica e deve fare in modo di essere riconosciuto dagli elettori, consigliato che in questi anni siamo stati spesso tacciati di essere lontani dai simpatizzanti e dal nostro elettorato. Uno dei temi sui quali pone l'attenzione è quello del mondo del lavoro. Noi vogliamo essere anche più vicini, come primo atto non casuale ho voluto portare un mazzo di fiori al cimitero dei Carusi. L'ho fatto perché ritengo che sia doveroso non soltanto ricordare il nostro passato minerario, ma anche per ricordare i morti sul lavoro, perché il lavoro e il lavoro buono deve essere il punto di riferimento delle politiche del Partito Democratico. Il lavoro è uno dei temi chiave di questa provincia che da troppo tempo è martingata.